D'accordo, lo farò. Cosa? Ti porto a Carson City, ti aiuto a salvare la principessa P.P. Bei Bei. Su le zelpe, signori e signori! Se credi di avermi in tuo potere, ti sbagli. Ti porto come un toro, coraggio, dai che ce la fai! Come sto? Ora si che somigli a un vero cowboy. Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, all'otto le cinesi, questa sera alle 21 su 27.